Presso la Sala Borsellino a San Cataldo è stato presentato il libro Ti bacio quando torno, la storia di Santina Cannella che è stata uccisa l'8 marzo 1954 per mano del suo fidanzato. Insieme ai due autori del libro Cataldo Loiacono e Salvatore Lombardo sono intervenute Valentina Matraxia, presidente dell'associazione Galatea Ollus e la sociologa Graziella Priulla. Hanno raccontato i fatti dal punto di vista giudiziario, personale, privato e ricordi di infanzia dei due autori vissuti a Marianopoli. Nei temi affrontati si sono affacciate tante figure femminili. Una madre definita vera e propria educatrice civica permanente, depositaria di una memoria che andava a tutti i costi tramandata, donne vittima di violenza nella storia recente della nostra comunità e Santina Cannella, una ragazza che negli anni 50 voleva solo essere libera di vivere la vita che sognava.